Oggi la presentazione del calendario delle fiere dei mercati, un meraviglioso prodotto con dei colori splendidi che porta a conoscenza di tutte le attività dell'amministrazione nei quartieri, mese per mese. Abbiamo fatto un conto che sono più di 60 giorni di grandi manifestazioni, dal foro a tutto, la fattoria in città, la fiera di primavera, i grandi interventi sui rioni e sui quartieri. E' la sesta volta che questo splendido calendario, credo che mai bello come quest'anno. Quindi siamo lieti di avere un prodotto che porta all'attenzione di chi viene da fuori tutto quello che si fa a Vercelli. Un grazie particolare all'assessore Politi per tutto quello che con Ascom e con ATL si è riuscito a fare. Il calendario è in distribuzione infatti in tutti gli uffici del comune aperti al pubblico, presso gli uffici dell'ATL, presso gli uffici dell'ASCOM e pensiamo di riuscire a distribuirlo anche magari in Vercelli se ci avanzano un po' di coppie magari nei negozi stessi della città che collaborano con tutte queste manifestazioni fieristiche per l'anno 2011. Grazie. 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 Grazie.